Stanotte siete stati in casa? No, stanotte non ci hanno fatto stare in casa, noi siamo andati a dormire da mia figlia. Riuscite a rientrare oggi? Noi sì, perché noi abbiamo il piano su, direi che proprio di sì. Sono una situazione difficile, piena di fango. Poi stamattina alle sette quando siamo venuti non c'era nessuno qua che presidiava, non c'era nessuno, c'era il deserto. Più rabbia o più paura avete avuto? Tutti e due. Non è sorpreso? No, perché prima o poi era già un po' che il fiume si vedeva che si era spostato in qua. Motivo non glielo posso dire perché non sono un tecno, però da quando era stata avata all'alta velocità, al secondo ponte, l'acqua veniva sempre più in qua, quando veniva la piena. Ultima volta, anni fa, arrivò lì a Libich, dopo che è stato deciso di fare quell'argine. Ieri mattina invece non ha tenuto. Quando si grida al lupo, al lupo, al lupo, al lupo, lo sai che ecco, adesso siamo così. Non so più niente, guardi, gli unici vestiti che ho sono questi qua addosso, guardi come sono messo. Non mi è rimasto niente. Voi siete stati prima evacuati e poi siete rientrati in casa? Qui qualcuno l'hanno portato via. C'è un, almeno dicevano ieri, una vecchietta che non voleva andare via, l'hanno preso fuori dalla finestra. Si vede che è sempre abitato lì, non preso fuori dalla finestra perché c'era un vigente che aveva l'acqua in camera. Siete un po' arrabbiati, è una situazione che voi denunciate da molto tempo questa? Eh, c'è, guardi che lavoro, se non si fa niente, tutte le volte che riavano qua, ci sarà sempre peggio. Questa settimana faremo una riunione e andremo a chiedere istituzioni che devono fare qualcosa, altrimenti blocchiamo completamente la via Triunvirato e la riapriremo solamente quando faranno qualcosa, detto dal Comitato dei cittadini della Berletta. Grazie.